6 dicembre 1983. Muore Umberto Terracini, presidente dell'Assemblea Costituente dell'Italia Repubblicana. Soldato nella Prima Guerra Mondiale, è fra i promotori e redattori del settimanale L'Ordine Nuovo, insieme all'amico Antonio Gramsci. Fra i fondatori del Partito Comunista Italiano nel gennaio 1921, viene eletto al Parlamento nell'aprile del 1924. Arrestato dal regime fascista e condannato dal Tribunale Speciale, trascorrerà fra galera e confino il periodo fra il novembre 1926 e l'agosto del 1943.